Minuto 89, amici stracandidi, al Maradona perché è da stasera che questo stadio passa da San Paolo a Maradona, in via ufficiale perché il clima era infuocato, infuocatissimo, ed è quello che tutti quelli che verranno a giocare in questo stadio dovranno sempre trovare, quindi un applauso allo stadio Diego Armando Maradona. Le celebrazioni, la voglia di reagire dopo una sconfitta, quella di Milano che ci aveva fatto male, se mi seguite vi ricorderete quello che dissi in diretta da San Siro, che la sconfitta che era maturata era una sconfitta meritata perché l'Inter ha fatto di più nel momento cruciale della gara, ma lo spirito di reazione che i ragazzi hanno fatto vedere non andava assolutamente sottovalutato, c'è stata voglia di reagire, c'è stata voglia di ribellarsi a una partita che probabilmente loro stessi sapevano che non avevano giocato all'altezza della situazione. Mosca lasciamola stare, Mosca è un episodio, ce ne sono capitati di episodi ma in Europa ci capitano e avevamo anche giocato con una formazione un po' più di basso livello, ma come dice Spalletti non bisogna lamentarsi delle assenze perché poi eccolo lì, le assenze ci sono e nella gara in cui tu devi reagire perché devi reagire e devi anche scrollarti un po' di dosso la compagnia fastidiosa rosso-nerazzurra milanese, no? Lo fai e lo fai con una mezz'ora probabilmente da far vedere agli appassionati di calcio o a quelli che vuoi convincere ad appassionarsi a questo sport. È finita senza recupero, Napoli 4, Lazio 0, torniamo in testa alla classifica a più 3 sul Milan e torniamo a mettere un po' di distanza anche sull'Inter che ad oggi è a 4 punti. E togliersi di dosso la compagnia delle milanesi non può che far bene, non può che fare bene perché era quella la preoccupazione maggiore in una partita come quella di stasera dove magari psicologicamente, come l'anno scorso, accadde uguale, sconfitta San Siro, sconfitta l'Olimpico contro la Lazio, dopo San Siro uscimmo con le ossa rotte, fuori Insigne, fuori Mertens, Osimene era già fuori. Invece quest'anno c'è stata una reazione con, come vi dicevo, una delle mezz'ora di calcio più belle che si ricordino da anni, da anni. Una mezz'ora di altissimo livello in cui la Lazio non ha capito nulla di quello che stava accadendo in campo, assolutamente nulla. Tant'è vero che per quello che riguarda la Lazio, poi ci arriviamo, sono pochissime le occasioni che il Napoli ha concesso. E altro dato importante, torniamo a chiudere la porta dopo alcune partite in cui abbiamo preso dei gol anche un po' stupidi, anche un po' stupidi e anche un po' sfortunati. Perché se vogliamo dirla tutta ci è successo anche un po' di tutto. Comunque, mezz'ora di livello spaventoso. Il primo gol lo troviamo su una imbucata su Driss, un errore di un giocatore da Lazio, se non sbaglio, Cataldi. Driss si inserisce, viene ribattuta il suo tentativo di inserimento. Da Cerbi arriva Zenlinski che, boom, non lascia scampo a Pepe Reina. Il raddoppio è poesia in movimento di Driss Mertens che riceve palla da insignia a poco fuori dall'aria, entra in aria, fa un paio di finte, disorienta tutta la difesa e poi destro che non lascia scampo, anche in questo caso a Pepe Reina. Il terzo gol, che cosa volete che vi dica? È un film già visto, una roba del genere l'abbiamo già vista. Pallone di Lozano, appoggiato fuori a Driss, che fa una palombella sotto l'incrocio dall'altra parte, che è veramente qualcosa di incredibile, incredibile. Tra il secondo e il terzo gol, le occasioni più importanti della Lazio, perché queste sono, poi non ce ne sono altre. Un tiro al volo, bellissimo, di Luis Alberto da fuori aria, ma il patron ci mette la mano e la devia sopra la traversa e poi sul calcio d'angolo che ne è venuto colpo di testa di Acerbi che tocca la traversa. Da quel momento in poi di Lazio non se ne sente più parlare, non se ne sente più parlare. Nella ripresa facciamo il nostro gioco, non facciamo toccare la palla alla Lazio praticamente mai. Io non ho voluto vedere il dato del possesso palla perché non mi interessava nemmeno più di tanto, perché mi bastava vederla la squadra, anche in situazioni di difficoltà non perdeva la lucidità. E signori, questa sera uno dei Lobotica migliori di sempre. Sarebbe facile dare la palma del migliore in campo a Driss Mertens, e probabilmente lo è. Sarebbe facile dare la palma di migliore in campo anche a Coulibaly perché ha fatto un'altra prestazione mostruosa che sta annullando completamente immobile, e lo è. Ma oggi il migliore in assoluto è Stan Lobotica. Prestazione di altissimo livello, sempre pronto ad aiutare i compagni, sempre pronto per lo scarico, sempre lucido nei passaggi. Avrà sbagliato uno, forse due passaggi, ma comunque in una zona di campo che non era pericolosa, quindi l'errore nel tentativo di imbucata ci sta pure, ci sta pure. Ma in assoluto una prestazione clamorosa di Lobotica, che se potesse il cielo far sì che questo giocatore resista il più possibile, anche dal punto di vista fisico, perché forse lì è un po' deboluccio, avremmo risolto tanti problemi anche in previsione di una Coppa d'Africa che ci porterà via Anghissà, che comunque anche stasera era fuori. Per il resto, amici, poco altro da aggiungere, se non la perla finale di Fabian Ruiz a qualche minuto dalla fine, con il suo classico sinistro a girare raso terra, che vola a un metro da terra e che Reina non può assolutamente prendere, assolutamente prendere. Quindi tante notizie positive, ma una cosa, una cosa, mettere dei bei tacchetti e tenere i piedi ben piantati per terra, perché stasera non è successo niente, se non una reazione che tutti volevamo, tutti la volevamo, perché quando esci da quel San Siro con quelle due occasioni nei minuti finali tiro del culo, e a me rode ancora anche alla voce, perché è un freddo incredibile, minchia. Però, però, con stasera non succede niente, con stasera abbiamo mandato segnali a tutti, dicendo che noi ci siamo, noi ci siamo, allunghiamo sulla quinta, o comunque manteniamo quei dieci punti sulla quinta, che male non fanno mai, male non fanno mai, per altri discorsi ci rivediamo a marzo, perché è da lì in poi che si giocherà eventualmente quel qualcosa, ma per il momento bisogna tenere puntato l'obiettivo stagionale, ovvero arrivare nelle prime quattro e i dieci punti sulla quinta, sono comunque un ottimo bottino. Adesso, settimana di fuoco, non c'è tempo per godersi niente, se non stasera, ma da domani si pensa al Sassuolo, che oggi, che oggi, è andato a Milano a prendere a pallate letteralmente il Milan, letteralmente a pallate, e successivamente si torna al Maradona per giocare con l'Atalanta, che l'altro giorno ha steso la Juventus. Settimana di fuoco, dopodiché ci sarà il ritorno dell'Europa League, dovremo affrontare il discorso Leicester, per capire il passaggio del turno o meno, la Conference League o quel cazzo che ne verrà fuori, poi Empoli, Milan e Spezia, per arrivare al Natale. Amici stracandidi, concentrati fino all'ultimo minuto, come hanno fatto questa sera i nostri ragazzi, un bacio lassù al DS, che stasera sarà ricreato. E un abbraccio a tutti quanti voi, iscrivetevi al canale, condividete il video, e mi raccomando, ricordatevi che il calcio, anche e soprattutto in salate come queste, cazzo se fa bene alle ossa, orca troia!